buongiorno domani si riparte si prende il ferrimand con un grill pass l'abbiamo fatto per 55 euro con un test potete farlo anche voi non avete bisogno del grill pass per andare in giro in europa non è vero ciao ciao filma la nave guarda che bella guarda che bella guarda che bella la nave guarda che bella la moglie fai ciao i posteri da bergen ciao ciao posteri